Musica Prime esperienze di lavoro retribuito per i quindicenni che frequentano le scuole professionali Un progetto finanziato anche dalla regione attraverso l'applicazione in forma innovativa dei contratti di apprendistato Finiamo di farcire questa focaccia dolce creando dei buchi con le dita Mi sono infarinato in modo da non rimanere attaccato alla pasta I trucchi del mestiere vengono insegnati a questi giovani studenti, allievi di una scuola professionale Diventeranno gli chef di domani Milano, scuola Galdus, oggi gli imprenditori incontrano i ragazzi per scegliere il più adatto alla propria azienda Sono molto contento, è un'ottima opportunità per imparare Se uno è bravo, volontarioso, ci mette l'impegno, è giusto che si facciano queste cose Investire da loro sulla formazione di base, con il collegamento con le scuole, come Galdus in questo caso E creare delle professionalità pronte per darci questo supporto, per darci questa possibilità di sviluppo È una necessità sempre più impellente Gli studenti, dopo i primi rudimenti appresi sui banchi, vengono messi in contatto con le imprese E vengono assunti con contratti di apprendistato di primo livello Si cimentano nel mondo del lavoro, si formano, vengono retribuiti Sino ad arrivare al diploma di qualifica professionale o di maturità E le imprese che sui giovani hanno investito, spesso si ritengono poi stretti, assumendoli Una scuola che viene finanziata anche da Regione Lombardia Che dal 2013 a oggi ha investito quasi 20 milioni di euro Abbiamo colto le necessità del mercato del lavoro e le potenzialità del nostro sistema di istruzione e formazione professionale